Arriva la proposta per la fase 2 di parziale riapertura delle attività lavorative dai consiglieri comunali di opposizione di Castellabate, Alessandro Lo Schiavo, Marco Rizzo, Caterina Di Biasi e Luigi Maurano. Ripartire in questa fase vorrà dire mancanza di liquidità reale in tasca ai cittadini e alle imprese, via libera ad alcune attività garantendo principalmente la salute dei lavoratori. Come gruppo consigliare abbiamo sottoposto all'attenzione del sindaco una proposta politica molto importante per l'avvicinarsi e concretizzarsi della fase 2, la fase in cui ci sarà la parziale riapertura delle attività lavorative e aggiungerei anche tutti noi ci riapproprieremo di quegli spazi, di quelle libertà che ci sono state limitate dallo stato di quarantena imposto da questo stato pandemico, da questo stato emergenziale legato al coronavirus. E quindi la data del 4 maggio è una data che rappresenta una speranza, un piccolo segnale di ripartenza per tutti noi e per le tante attività del nostro territorio, seppur tante limitazioni, tante restrizioni rimarranno con tanti punti interrogativi perché ancora il quadro non è definito per quello che sarà dopo il 4 maggio. Però noi preoccupati di tante cose, avendo ascoltato e registrato il pensiero di tanti operatori del turismo, abbiamo sintetizzato con quattro punti il nostro pensiero e quanto dovrà mettere in campo l'amministrazione comunale per dar respiro al comparto produttivo legato al turismo e all'indotto ad esso collegato tenendo sempre in considerazione quelle che sono le nostre famiglie, quelle che sono i lavoratori stagionali del nostro territorio. E come dicevo si ripartirà sicuramente accompagnati da un dato incontrovertibile che è la mancanza di liquidità che si troveranno in tasca le imprese come le famiglie. Tutto questo dovrà però accompagnarsi a dei protocolli di sicurezza che daranno tranquillità, che daranno sicurezza appunto ai lavoratori, come ad ogni singolo cittadino del comune di Castellabate. Noi con molta franchezza ci dobbiamo dirci che in queste settimane tante attività stanno valutando se riaprire i battenti in una stagione turistica che chiaramente è compromessa. Dobbiamo tenere in considerazione che tanti lavoratori stagionali, famiglie non ce la fanno più a reggere questo stato di cose. C'è un paese che necessita di liquidità, che ha bisogno di soldi, che non vuole sentire parlare di rateizzazioni, di prestiti o di rinvii. E allora siccome l'intero comparto produttivo legato al turismo negli ultimi anni ha subito degli aumenti spropositati per quanto riguarda la Tari, per quanto riguarda l'acqua ora nelle mani della CONSAC, in considerazione di tutto quello che ci siamo detti, noi al sindaco abbiamo chiesto essenzialmente quattro cose. Innanzitutto di non far pagare le tasse alle attività turistiche produttive, quindi esentarle dal pagamento della Tari e della COSAP, ridurre la liquida IMU per le attività che hanno i locali in fitto, questo per tutto il 2020, per le utenze domestiche di prima abitazione la riduzione dei latari al 30% per tutto il 2020, valutare l'emissione di un voucher vacanza da spendere entro l'anno nel comune di Castellabate per acquistare pacchetti turistici. A favore delle nostre attività turistiche, a favore delle attività del nostro territorio, l'istituzione di una commissione composta da rappresentanti del Consiglio Comunale, dalle associazioni di categoria, in particolar modo l'associazione albergatore di Castellabate, la Confcommercio che raccoglie all'interno di sé diverse sigle e rappresentanze dell'imprenditoria turistica, i libi balneari, attività commerciale, della ristorazione, consultarsi con il parco marino, con la cooperazione del parco, con le università, quindi redigere un piano di lavoro in questa fase emergenziale e quella che sarà poi la fase post-emergenza, quindi permettere all'attività di non pagare per quello che non ha potuto fare durante questo stato di quarantena. E tutti gli analisti, tutti gli esperti economici ci dicono che chiaramente liquidità in tasca ai cittadini e alle aziende e alle imprese vuol dire non far pagare le tasse.